La grande sfida di tennis è ormai alle porte. Sara Errani e Roberta Vinci affronteranno sabato al forum di Asago Anna Ivanovic e Maria Sharapova. La tennista russa chiude al numero 2 al mondo, ma promette battaglia in vista del 2013. Voglio vincere più match possibili e avere più probabilità di raggiungere l'obiettivo. Voglio solo essere la numero 1. Anna Ivanovic, numero 13 del ranking, racconta il suo rapporto col connazionale serbo Novak Djokovic. Ci conosciamo da 20 anni. È bello avere un amico come lui. È sempre sorridente. Siamo molto diversi, ma ci troviamo molto bene. Per il duo Errani Vinci, il meglio del tennis italiano nel 2012, è stata una stagione memorabile, con la prima piazza in doppio, Sara sesta nel ranking e Roberta sedicesima. Non ci sono segreti. È stato un anno questo spettacolare, come l'ha stato anche quello dell'anno scorso. Sicuramente inaspettata, anche per me. È stato un anno incredibile. Dall'Australia ho fatto grandissimi risultati con grande continuità, quindi sono contenta di questo, sia per il singolo che anche per il doppio.